Due famiglie, pari entrambe in dignità, nella bella Verona, ov'è la nostra scena, dal loro antico rancore. Nascono nuovi tumulti e sangue di fratelli scorre dopo gli assolti, figli di quei nemici senza altra via d'uscita, due innamorati, segnati dall'esterno. Si tolgono la vita. La vicenda terribile di questo amore della morte insegnato e dei loro parenti, il tenace rancore a cui nulla porrà fine se non la scomparsa dei loro figli nel dolore. Mai vi fu storia di maggior dolore di quella di Giulietta e del suo amore.